Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in questo nuovo video, come nel video precedente, che non so se avete già visto che vedrete. Voglio, diciamo, impostare i video senza essere troppo, diciamo, impostati. Ecco, voglio farne un pochettino più naturali, come ad esempio preparare le carte davanti a voi. Questo, ad esempio, è una tipologia di video che avevo una volta proposto per i nati oggi, per chiunque è nato in questa data. Oggi è il 14 gennaio, appunto, andremo a vedere caratteristiche e peculiarità di chi è nato in questo giorno, anche qualcosa riguardante il segno zodiacale, dato che è una cosa che interessa tutti noi, diciamo, per curiosità anche della nostra data di nascita, subito andiamo a vedere di che segno siamo. Cos'altro dire, spero che questa tipologia di video, un pochettino più informale, ecco, vi possa piacere. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, dove ho creato un post dove vi elenco tutti i miei servizi e tutti i prezzi, in modo che voi possiate rendervi conto di quello che io offro. Comunque, chi volesse avere più informazione e parlare privatamente con me, lo può fare attraverso i miei contatti. Sotto trovate sia il link di Instagram, sia il link per visionare ed eventualmente acquistare i mazzi che io ho creato. E niente, iniziamo subito con questo 14 gennaio. Vediamo qualche curiosità e qualche caratteristica di chi è nato in questo giorno. Ci saranno tantissime persone che fanno oggi il compleanno. Allora, il 14 gennaio è il giorno dell'integrazione. I nati il 14 gennaio sono persone audaci, sempre impegnate a coordinare e integrare le diverse sfaccettature della vita e della sfera professionale. L'abilità di vedere le cose organicamente nel loro complesso. La differenza, li differenzia da coloro che si perdono nei dettagli. Molti di essi mostrano di avere sufficiente forza da riuscire a mettere insieme tutti i fili della vita con i quali tessono una tela molto speciale. Non esitano mai a seguire la strada che ritengono giusta anche a costo di infrangere le regole della società e, d'altra parte, sono perfettamente consapevoli di tutte le possibili conseguenze positive e negative delle loro azioni. Il pericolo sembra esercitare un fascino particolare su questi individui che qualche volta si trovano a vivere, per così dire, sul filo del rasoio. Tuttavia, non si può dire che cerchino l'emozione soltanto come stimolo. Si tratta piuttosto di una conseguenza dell'intenso coinvolgimento che provano quando hanno a cuore una causa. Per alcuni, il pericolo offre l'opportunità di vincere contro le grandi ingiustizie o almeno di morire da eroi. La maggior parte di essi è assolutamente consapevole dei propri poteri, ma ciò nonostante si ostina a volerli mettere alla prova continuamente per verificarne la capacità di resistenza. dominare ciò che non vuole necessariamente dire che vogliono essere sempre i sovrani incontestati. E perché abbiano spiccate abitudini di leadership, si tratta di un talento che può a volte rimanere latente in loro, specie se ritengono che le possibilità ad alto livello potrebbero inibirli in maniera eccessiva. E' alquanto difficile che cambino idea una volta che hanno preso una decisione e quando si tratta dei loro sentimenti e delle loro emozioni, sanno essere duri come pietre. A qualsiasi prezzo riescono ad adempiere a quelli che considerano i propri compiti senza scendere mai a compromessi. Comunque, anche coloro che credono fermamente in una causa comune, si riservano in generale il diritto di agire indipendentemente da esse. Infatti, i nati 14 di gennaio attribuiscono un'importanza decisamente prioritaria alla libertà personale e sono tra le poche persone dell'anno che non esiterebbero a mettere a repentaglio la propria vita, se necessario, pur di non cedere alle pressioni. Pare alquanto inevitabile che si sentano coinvolti in questioni sociali e universali e per questo possono avere una vita difficile e tormentata. Il partner, i familiari e gli amici devono dimostrarsi estremamente fedeli e comprensivi nei loro confronti se vogliono che il rapporto resista alla buona e alla cattiva sorte. Tra l'altro è a peggiorare le cose. C'è anche il fatto che, sfortunatamente, quando sono impegnati in una lotta accanita, i nati in questo giorno tendono anche a ignorare e trascurare i loro cari. Il più grave momento di difficoltà è però quando arrivano a perdere del tutto e a prendere tutto e in gran campagna o in gioco particolarmente rischioso e voltandosi a cercare aiuto. Scoprono di essere soli. Se vogliono che gli altri continuino a sostenerli, devono utilizzare le energie di cui dispongono in questioni più personali e sociali. Di estrema importanza è anche per questo individuo imparare a condividere con il prossimo i diversi lati della vita, riuscendo a dare e a ricevere con tranquillità, se non per puro altruismo, almeno per uno scopo pratico. Allora, il segno zodiacale di appartenenza di questo giorno è appunto il capricorno. E andiamo a vedere qualcosa sul capricorno. Vediamo a che decade appartiene. Allora, vediamo questo capricorno del 14 gennaio. Allora, appartiene alla terza decade questo segno. Vediamo un po'. Vediamo se c'è qualche altra cosa. Anche qui abbiamo anche qualcosa che riguarda... Andiamo anche a vedere questo. Allora, innanzitutto andiamo a vedere qualcosa proprio sul capricorno. Allora, il capricorno è il decimo segno dello zodiaco ed è anche il primo di quelli che potrebbero essere chiamati i segni più universali. È il terzo e ultimo segno di Terra dopo Toro e Vergine ed è governato dal pianeta fatale Saturno. Il capricorno simboleggia il modo di vedere serio della maturità, ma anche la consapevolezza di come lo spirito dell'individuo si lega all'universo. La responsabilità e il suo atteggiamento si manifesta nella tendenza al risparmio, nel rifiuto dello spreco di energie e in un approccio estremamente prudente alle cose. L'animale che dà nome al segno può sì pascolare in pianura per un certo periodo di tempo, ma poi di solito cerca una posizione più elevata di dominio sulle montagne. Ecco dunque l'ambizione, l'energia e la voglia di riuscire, tipica del capricorno. Esso avverte senza dubbio il valore del caso della vita, ma non per questo dimentica l'importanza della libera volontà e della determinazione. Il capricorno può essere visto come uno stadio evolutivo tra sagittario e acquario, che trasforma le energie addenti filosofiche e mobili in energie eterie distaccate ed eccentriche. Personalità del capricorno. Se il capricorno rappresenta il decimo periodo della vita tra i 63 e i 70 anni, la personalità del capricorno può essere paragonata al bisogno di sicurezza e di sostegno strutturale dell'individuo maturo, ma può anche presagire un indurimento o una cristallizzazione di pensieri e di idee. Saturno, il pianeta dominante, dona serietà, senso di responsabilità e un desiderio di limitazione piuttosto che di espansione. I capricorni tengono a essere dei conservatori, ma non sempre ciò li trattiene dall'aspirare ad alte vette, che spesso raggiungono grazie a un'opera paziente e tenace. Essi non si preoccupano del tempo necessario per raggiungere i propri fini, lavorano costantemente sui propri obiettivi con attenzione e convinzione, e raramente si danno per vinti. Molti astrologi riconoscono nel capricorno il segno astrologico più complesso da definire, data l'estrema varietà tipologica dei nativi. Eppure sembra proprio che tutti i capricorno condividano il senso di fatalismo tipico di Saturno, che conferisce loro una sorta di accettazione degli eventi molto differente. Per esempio, dalla gioiosa apertura dell'acquario, il capricorno infatti vede le avversità, le difficoltà e le sofferenze come parti inevitabili della vita, e tende semmai a insospettirsi quando le cose sembrano troppo facili. Di solito i nati sotto questo segno accettano il ruolo che sono chiamati a svolgere nella vita, ma talvolta mancano della flessibilità necessaria a cambiare. I capricorni sanno per istinto che cos'è il potere e come agisce. Molti di essi devono guardarsi dalla tendenza ad assumere un comportamento dittatoriale, mentre altri, pur non essendo dei maestri nel dire agli altri ciò che devono fare, non esitano a dir loro come devono farlo. E spesso, per avvalorare le loro affermazioni, adducono degli argomenti profondi e competenti. Belli tosti capricorno. Allora, diciamo che oggi del capricorno prendiamo solo la personalità. Sì, la personalità. I capricorni del terzo periodo, cioè terza decade, sono individui fortemente dominanti, a casa come al lavoro. Essi tendono a governare e dirigere e trovano alquanto difficile svolgere il ruolo di secondo violino nei confronti di chiunque. Come figli o fratelli tendono di solito a sostenere e a fare, da complemento alle figure collocate più in altro nella gerarchia familiare, ma spesso alla fine, ma possono alla fine trovarsi invischiati in lotte di potere in cui la posta in gioco è la conquista del predominio familiare nel tempo. Altrettanto abili si dimostrano nel delimitare il proprio territorio. La determinazione dei nati in capricorno di terza decade hanno spesso un effetto fortemente stabilizzante nei confronti del gruppo a cui essi appartengono. Molti manifestano un forte desiderio di comando, mentre altri si accontentano di una certa autorità, magari più modesta, ma comunque indiscussa. Questi ultimi possono preferire la sicurezza di una posizione di questo genere all'incertezza di chi sta al vertice, alla vulnerabilità che nasce dall'essere costantemente sotto i riflettori. Essi possono limitare rigidamente la loro espressività, rifiutandosi di cogliere le occasioni che si presentano loro. E ciò non solo nel lavoro e negli affari, ma anche nelle relazioni interpersonali e nelle attività sociali. In tal modo la paura di mostrarsi aperti e vulnerabili potrebbe finire per rinchiuderli in una posizione di fatalistico isolamento. Molti capricorni della terza decade sono persone davvero di successo, che si considerano degli eroi perché spesso hanno dovuto combattere contro qualcosa che li poneva in una posizione svantaggiata. Magari una motesta condizione di nascita, un handicap fisico o qualche carenza nell'aspetto fisico, nell'intelligenza o nelle capacità pratiche. È auspicabile che nella loro coraggiosa salita essi riescano a non scendere a compromessi con i loro alti ideali e a non perdere il contatto con le proprie radici. Ciò che infatti molti riescono a fare è scavarsi una nicchia personale nella vita, grande o piccola che sia, un piccolo impero di cui sono gli indiscutibili padroni. E tuttavia devono fare attenzione affinché la loro esistenza o l'istinto di supremazia non li porti a essere sia l'unico governatore che l'unico governato. Molto interessante questa del capricorno. Adesso vediamo, mi preparo già il giorno di oggi, il giorno di domani, scusate, che registrerò magari più tardi se riesco ad avere tempo. Ok. Intanto volevo anche darvi un consiglio per oggi. Vediamo un po' di trovare. Ecco qua. Prendiamo questi due libri. Prendiamo questi due libri. Ah, e anche questo qua mi interessava, sì. Ok, mi piace proprio fare queste cose in diretta. Allora, per sempre il 14 gennaio, 14 gennaio, volevo appunto darvi un messaggio per quanto riguarda questo giorno. Il 14 gennaio. Ogni mio pensiero positivo rafforza la mia salute. Più sto bene interiormente e più sto bene esteriormente. Fortifico la mia salute inviandomi onde d'amore. Oggi mi sento benissimo. Questo è uno. Adesso andiamo a scegliere l'oracolo. Scegliamo l'oracolo oggi. Vediamo che cosa ci dice oggi. Lo scegliamo in modo molto casuale. Vediamo un po'. Personalizza il tuo percorso. Anche se è necessario attenersi alle regole e ai suggerimenti degli esperti, non rinunciare mai alle tue idee. Perfezione indirizza il percorso tenendo conto della tua individualità. Non rinunciare al magico tocco che rende unica ogni tua azione. Bene cari amici, io vi chiedo cortesemente di farmi sapere nei commenti se vi piace questa tipologia di video molto più naturale. Fatemelo sapere nei commenti. Mi raccomando, come vi ho spiegato, seguitemi anche su Instagram. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.